Salve a tutti ragazzi e benvenuti su questo sogno allucinante in questo secondo episodio della nuovissima serie di The Mining of Isaac io sono Ciannero se mia compagna c'è Alcarin stiamo continuando da dove c'eravamo fermati appunto e ora proseguiamo forza andiamo su andiamo su questa stanza le cacchine le cacchine coccolose sono coccolosissime ragazzi dovete guardarle bene in faccia appena abbiamo il tempo sono belline mio dio questo sparò proprio fiero mamma mia si si ok da quei cosi escono cancri quindi ti consiglio di eliminarli il prima possibile ecco per questo ti ho detto essere grandi non aiuto in Mining of Isaac ti hanno preso in 3 secondi oh ci ha regalato delle bombe però ci ha regalato una bomba alla stanza di prima non l'abbiamo controllata ok abbiamo ottenuto un nuovo oggetto di C-Taste girati dietro no no allora c'è questo e teniamoci questo aspetta no che dice c'è una testa e non dice un cazzo in mezzo in page in glow with power però quello la quello lasciare aiutato con il boss quindi no teniamoci questo ma niente ok mamma mia che schifo oddio vabbè ragazzi e la cosa bella è che c'è pure di peggio un povero barbona a cui possiamo donare le cose allora se fai allora fa esplodere no 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 io non voglio donare nulla ah no è vero non abbiamo non abbiamo una seconda bomba no no lascia stare via pure me le cacchine tutte le cacche belline attento che queste qua corrono eh lo so guarda come sono coccolose queste cacchine sono belline sono adorabili e perchè non muore ah papà grazie papà un sacco un sacco ah ci da progettinando pensavo che era ci davano muore ah boss fight no non conviene non ci conviene adesso uh questo qua questo stanzetto si ne va la pena ne va ok cos'è prendilo day grow inside ok abbiamo se crescinti è dentro di me ma non so che cos'è mamma mia oddio sono diventato verde oh che schifo beh ci avrà sicuramente pompato qualcosa ricorda ricordati al cane in più facciamo schifo stiamo forti in questo gioco di altro lato spavola delle mosche quando ci facciamo male wow però attenta a non farti colpire abbiamo solo un cuore ecco la batteria a posto a posto la batteria ah usiamo la bibbia torniamo indietro la riprendiamo e poi continuiamo e questo che cos'è Alc questa è una stanza particolare cioè noi entriamo ci sono dei giochini mini di scommessa possiamo ottenere cose belle come possiamo ottenere cose brutte a tua a te la decisione le possiamo spendere le monete se vuoi voglio che non posso uscire cose piene però è anzi forse conviene perché ci sono le possiamo spendere cos'è di john capo quattro non ci conviene ci questi oggetti così non ci conviene allora entriamo allora entriamo io entriamo io le monete ce le abbiamo vale la pena ok abbiamo tre monete ok vabbè basta così piano almeno ok ti sei tolto mezzo cuore genio che sei e poi dopo che hai donato parecchie monete ti da un oggetto di ma attenzione un colpo un colpo al carine ed è finita oddio te l'ho detto te l'ho detto un colpo ed è finita un colpo ed è finita oddio ci darà un altro slot di cuore in più se non ci facciamo colpire però ne abbiamo la bibbia quindi ci faremo colpire bene ragazzi siamo arrivati al boss ora abbiamo la bibbia useremo la bibbia perché al carine ed è stato molto intelligente e quindi qualsiasi boss sia lo qualsiasi useremo ok the stain elimina elimina subito ok addio oddio no 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 com'è no ci ha dato le ali ci ha dato le ali che sarebbe cosa vuoi volare nella stanza però è strano dovrebbe una shottare il boss siamo stati oddio un pentagono che cos'è? è un pentagono ci darà un potere allucinante se lo prendiamo oh my god sono un demonio andiamo ragazzi andiamo questa è l'ultima stanza no povero Isaac non ha la cattucina a tutti ci ha fatto mamma mia siamo dei tank ragazzi siamo dei tank OP proprio beh ragazzi questo è il penultimo piano questo piano attentissimo apre ho l'arma ho questa cosa di dio vabbè abbiamo un danno della madonna che permette e abbiamo il piede di dio e ricordati alcare in tutto quanto è pericoloso negli ultimi piani qualsiasi cosa tutto è pericoloso oh guarda beh abbiamo tre cuori attento attentissimo quelli bianchi non si possono uccidere finchè non uccidi tutti quanti cazzo oddio è vero possiamo però una cosa è certa io sono di certo che la bibbia un ucciderà mamma certo ma certo oddio mi ha allungato il collo per amm oddio le cacchiere le cacchiere attento ma non lo so attento non buttiamoci la ranna ok bruni fa schifo è il disgusto no e non l'ho ucciso perchè non l'ho ucciso attento attento beh in compenso però siamo degli dei no wow oh l'ho ucciso di oh mio dio un pezzo di carne da un age più hp oh mio dio quanti achievement siamo che culo guarda quanti cuori oddio vai vai esploriamo il piano allora a questo punto vediamo un po oh oh attento 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 ecco guarda sono esplosi questo di merda vedi 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 che stronzi ah mamma culo culo vabbè ragazzi questo è il culo dei culi dei culi dei culi dei culi eh ok stento questi lanciano velocemente c'è la vera ok più che oggi proseguiamo ok il piede ammazza io ammazzo mamma mia il bilingo isaac puoi avere un culo della madonna la sfortuna proprio delle sfortune cazzo a questi li possono far male solo da dietro sono data dalla parte cervellosa però noi abbiamo un attacco di Dio ce ne può fregare di me abbiamo sei chiave vale la pena vedete cosa è cazzo 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 Boste 겠어요 vedi owi il ok attenzione potrebbero esserci mini boss in ogni stanza v 도 egy questo è l'ultimo piano è anche avuto qualche però è Generola 25 è l'ultimo piano a chi ci si avrò le chiavi più in giurà ora a quell'oggetto non soitar o che cos'è non ci conviene prenderlo tutta una bomba per fare esplodere questi sono scardi di pietra può esserci c'è bobo che cos'è bobo però non ci conviene avere bobo ok riprenditi la bibbia fa esplodere questo è pure quello scritto non è pure quello spigno però perché quell'altro quello che l'ormale dicendo che abbiamo ripreso nel pazzarapina supermanic supermanic cura e tu non volevi vabbè però attira sull'oggettico vabbè però è buono oddio molto bene ragazzi sei pronto io si entra mamma questo è la mamma oh my god 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 as he accepted oh my god oh my god oh my god oh my god un golpe solo ah quando l'ha benimum oh guarda l'animazione di Isaac oh oh cosa, un altra mamma abbiamo battito la mamma ma questo è solo l'inizio non è finita per niente Quindi ci vediamo al prossimo episodio Se ne volete altri Commentate, mettete like Iscrivetevi Da Shan Nero sia Alcarin è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao